Ciao! Sto creando questo video per fare pratica con la mia pronuncia. Non ho niente da dire ma credo che possa creare qualcosa qui. Abbiamo fatto una piccola lista delle cose che posso descrivere. Sì, questo weekend, ieri infatti, io e mia moglie siamo andati a Portland per fare una bella passeggiata e dopo abbiamo comprato qualche cibo thailandese da un ristorante a Portland e questo cibo è stato molto molto buono e infatti abbiamo comprato un sacco di cibo da questo ristorante nel passato, un sacco di volte, è sempre giusto, buono, sempre molto molto buono. E in questi giorni la mia frase preferita è passato remoto, passato remoto. infatti la parola remoto perché mi piacciono i suoni quando c'è una lettera o aperta segue da e poi una o chiusa, remoto, remoto e anche la parola vuoto, la natura odia una vuoto, pieno e vuoto, eccetera. mi piacciono questi suoni. Infatti credo che questo suono la o aperta è un suono molto sia un suono molto importante in italiano perché i suoni della lingua ci sono certi suoni nella questa lingua che sono molto importanti e credo che questo suono sia uno di questi suoni importanti, sì. Poi in questi giorni, uno oppure due settimane fa ho iniziato a studiare il francese e mi piace un sacco perché i suoni sono molto molto diversi rispetto all'italiano oppure all'inglese ma le parole, le parole sono molto molto simili. Infatti ci sono un bel sacco di parole che sono assolutamente molto 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 simili, ad esempio in italiano abbiamo questa parola dunque, in francese c'è questo, questa parola dunque è molto simile e anche i verbi sono assolutamente collegati, dire, avere, portare, eccetera eccetera. Le parole sono super simili e per questa ragione mi sembra facile in un certo modo. i suoni sono assolutamente veramente diversi ma le parole e i radici delle parole sono molto collegati e quindi credo che continuo a fare questo, questa strada. sì e niente è tutto ciao! ciao! Grazie a tutti.